Grazie a voi che mi avete ospitato. Grazie per essere qui per raccontarci l'attività di un sodalizio che è attivo, presente da tanti anni sul nostro territorio provinciale, che si dedica agli altri più bisognosi al volontariato, questa è la mission in primis, ma io sono curiosa di chiederle come è nato innanzitutto questo circolo e Sommavilla, lei è Presidente da tanti anni, l'ha visto proprio crescere ed evolversi anche nel numero dei suoi componenti. Assolutamente sì, il circolo nasce nel 92 per volontà di pochi intimi, chiamiamoli così, perché c'erano dei problemi a livello proprio di poter svolgere determinate attività all'interno del corpo nazionale, perché il ministero non ha soldi, eccetera. Quindi è nato questo circolo per poter dare la possibilità a tutte quelle attività extra, diciamo così, vigili del fuoco, quindi la partitela di calcio, l'incontro di palavolo, l'incontro per parlare di un libro, eccetera. E quindi è nato questo circolo ricreativo. Da lì poi è partito con 50-60 iscritti, attualmente siamo arrivati a 180 iscritti, che è una bella cifra e noi siamo contenti di questo, speriamo di crescere ancora. È il maggior numero, è il massimo di componenti? No, abbiamo avuto anche qualche numero in più, ma poi si sa, c'è qualcuno che va e che viene, quindi anche dei colleghi che da fuori erano venuti a Belluno, si sono iscritti, ovviamente quando sono ritornati nei loro paesi, soprattutto nella bassa, quindi parliamo di gente del sud, ovviamente mi hanno detto Gianfranco, è inutile che io, perché non ti posso dare una mano. Certo. E quindi insomma, qualcosina si è ristretto, ma comunque 180 sono un bel numero. Ecco, principalmente comunque tutti i vigili ex vigili del fuoco, diciamo. Diciamo che inizialmente erano tutti i vigili del fuoco, attualmente con il nuovo statuto, visto che noi siamo una PS, quindi abbiamo allargato anche agli esterni, quindi chi vuole ha la possibilità di iscriversi per darci una mano e per poter portare avanti le iniziative che noi facciamo. Ecco, ricordiamo quindi Presidente, qual è la mission comunque? Che cosa fa il circolo? Il circolo regolativo, diciamo così, ha la mission di poter aiutare il prossimo. Questo ce lo siamo sempre detti, quindi qualsiasi attività che noi facciamo, tutto quello che poi alla fine raggranelliamo, va devoluto a associazioni che ci chiedono perché hanno problemi, asili per esempio, oppure famiglie in difficoltà. Abbiamo donato due anni fa la pediatria dei macchinari, quindi la nostra attività è a livello sia provinciale, su tutto il territorio, perché gli asili li abbiamo forniti da Santo Stefano a Feltre, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cercato di dare una mano su quello che ci chiedono, perché non è che io posso sapere di che cosa hanno bisogno, ma quello che loro ci chiedono, se riusciamo lo facciamo. Ecco, quindi il tema della solidarietà, questo è un po' il cuore. La vostra sede dov'è? Attualmente è presso la nuova sede dei Vigili del Fuoco, un edificio staccato e quindi lì c'è la nostra sede ufficiale del circolo recreativo dei Vigili del Fuoco. Ecco, voi vi ritrovate, diciamo, con una certa frequenza, diciamo, proprio per programmare quelle che sono le attività, le iniziative. Assolutamente sì, circa una volta al mese noi vediamo di farlo. Con la questione del Covid ci ha un po' bloccato e quindi la situazione adesso dovrà, mi auguro, si possa riprendere effettivamente di poterci ritrovare, anche perché dobbiamo riprendere questa attività di poter aiutare il prossimo, altrimenti diventa difficile. La nostra mission, come diceva lei, è quella e quindi dobbiamo per forza di cose riprendere la questione. Senta, Presidente, venendo proprio ai giorni scorsi c'è stata una data emblematica, diciamo, per tutta la collettività, la società, ma in particolare proprio per il corpo dei Vigili del Fuoco. Mi riferisco ovviamente all'11 settembre. Abbiamo celebrato il ventennale del disastro delle Torri Gemelle e proprio a Belluno, dal vostro comando, insomma, c'è stata un'iniziativa significativa anche dedicata a un bellunese, un Vigile del Fuoco, Nicola Rossano. Ce ne vuole parlare? Diciamo che a Nicola è nata una questione un po' particolare, nel senso che quando sono andato a trovarlo, lui mi aveva fatto capire che avrebbe avuto piacere di avere un Crest, che è uno stemma su legno dell'FRDP, di questa associazione di volontariati, perché è un ONG. Allora, ricordiamo un attimo, Presidente, anche per i nostri telespettatori, Nicola Rossano, chi è innanzitutto? Nicola Rossano è un nostro ex collega. Lui faceva il Vigile del Fuoco quando, mi sembra 26 anni più o meno, ha avuto la sclerosi e quindi da lì purtroppo non ho più potuto fare il Vigile del Fuoco, ma fa comunque sempre lì con noi, chiamiamolo sempre Vigile del Fuoco, solo che è in ufficio e non fa più le partenze. E per noi Nicola è un'istituzione, cioè noi lo abbiamo sempre avuto con noi, oltretutto è stato uno dei primi a partecipare al circolo ricreativo, quindi il circolo ricreativo non si poteva esimere da una sua richiesta. E da lì è nata questa festicciola che abbiamo fatto sabato per Nicola. Ecco, e quindi diciamo lui è stato nominato, è stato insegnato di un titolo particolare. Sì, lui è diventato praticamente comandante onorario di questa associazione, di cui il comandante è Robert Triozzi di Roma, che è un ONG che è sotto l'egita dell'ONU. Quindi un programma di sviluppo per i Vigili del Fuoco, giusto, che mira a qual è l'obiettivo di questo organismo? L'organismo è quello di andare in paesi che hanno subito guerre, che hanno subito anche grosse guerre interne, eccetera, di andare ad insegnare o riprendere il lavoro del Vigile del Fuoco. Quindi Robert con la sua squadra, che mi sembra siano una ventina di tutti i paesi ovviamente del mondo, perché ne ha distribuiti un po' dappertutto, va in questi paesi a rinsegnare a fare il Vigile del Fuoco. Mi diceva che in certi paesi non hanno proprio nulla. E fanno lo spegnimento dell'incendio con le mani, quindi non hanno nemmeno la panichetta a spegnere l'acqua, con i secchi devono correre, ancora come quando noi parliamo dei romani, per dire. E quindi diciamo il conferimento del titolo di comandante onorario proprio alla bellunese Nicola Rossano per questo organismo. Voi gli avete fatto una sorpresa, nella sorpresa diciamo. Sì, gli avevamo fatto una sorpresa perché lui non si aspettava questo, perché la sua richiesta era di avere questo stemma. E io gli ho detto, Nicola, se ho la possibilità ti faccio avere lo stemma. Da lì è partita tutta questa iniziativa, anche tramite Robert, che ringrazio ancora. Il comandante appunto. Il comandante, sì, che insomma da lì è partito tutto e abbiamo deciso di fare questa festicciola per l'11 di settembre. Fatalità, è caduta l'11 di settembre anche perché lui mi sembra che dopo domani deve partire, non so, di nuovo per un'altra missione. E quindi mi ha detto, ho solo questo, facciamo l'11 che è a pennello, ma l'11 dopo vent'anni sappiamo tutti di quello che è successo. Di quello che è successo, certamente, quindi insomma ricordo maggior ragione appunto ancora di questo disastro, di questa tragedia che per i Vigili del Fuoco è stato un momento davvero indelebile. Quindi siete andati a casa proprio per consegnare, a casa di Nicola, per consegnare questo riconoscimento. Questa è solo una delle recenti, la più recente se vogliamo, iniziativa che ha visto protagonista il circolo. Ma diciamo purtroppo parlando della pandemia, Presidente, dobbiamo considerare che la pandemia ha in qualche modo intaccato, condizionato pesantemente le vostre attività, perché i bellunesi lo sanno, un appuntamento del mese di settembre era quello del Baby Bazaar. Assolutamente sì, e quindi per noi è veramente un peccato non poter fare il Baby Bazaar. Ecco il Baby Bazaar cos'era, ricordiamolo ancora? E' questo mercato scambio che viene fatto dai bambini, solo ed esclusivamente dai bambini, quindi è una cosa incredibile, bellissima, che viene fatta in Piazza dei Martiri. Anche lì siamo partiti con 54 in via Garibaldi, 54 iscritti. Siamo arrivati ad oltre 400 e spero di aumentare ancora, cioè spero che le piazze di Belluno si possono riempire. Questa, insomma, ce lo chiedono, purtroppo questa pandemia ci ha un po' bloccato, era difficile farlo, soprattutto in questo periodo di Covid. Avendo tutti i bambini, per la sicurezza loro, ma anche di poi chi partecipava, diventava difficile, non era proprio così semplice. Quindi avete preso questa decisione nell'edizione 2021 di annullare questo? Anullare, annullare, assolutamente sì. Io mi auguro, spero che tutto vada per il meglio e che nel 2022 si possa riprendere con un vigore anche maggiore, visto che per due anni siamo rimasti fermi. Senta Presidente, parlavamo prima un pochino della storia comunque del sudalizio che il prossimo anno festeggerà un traguardo importante. Trent'anni, trent'anni di attività, che non sono pochi, siamo nati nel 92. Ecco, e in questo periodo comunque il circolo ha devoluto complessivamente una cifra significativa a favore del territorio provinciale? Sì, diciamo che, ed è un bel traguardo e sono orgoglioso di questo, perché abbiamo superato gli oltre 100 mila euro di donazioni fatte un po' a tutti, tra famiglie e istituzioni, come dicevo prima. Ecco, quindi diciamo appunto tante piccole attività che testimoniano comunque l'operato, l'intraprendenza dei volontari, dei componenti, proprio a beneficio della collettività per mettere in campo un pochino quelli che sono proprio i valori comunque della solidarietà che caratterizza il corpo nazionale. Senta, Presidente, dobbiamo ricordare anche un'altra iniziativa che vi vedeva protagonisti nel periodo invernale, anche questa purtroppo è venuta a mancare, però è bene ricordarlo, no? Perché è quella del San Nicolò che avevamo fatto nel 2019, abbiamo avuto oltre 250 bambini che non sono pochi e quindi l'idea era quella di ripetersi, perché era nata un po' per caso anche quella, ma abbiamo visto che la partecipazione da parte di, abbiamo fatto con asili e scuole elementari, ma abbiamo visto che la partecipazione c'è stata e i bambini erano felicissimi. Quindi l'idea era quella di proseguire e di continuare. Purtroppo questa pandemia veramente ha rovinato un po' tutto, io mi auguro, spero vivamente, che se le cose cambiano, di poterlo rifare e poi vedremo di studiare anche qualcosina di particolare. Delle altre progettualità. Assolutamente. Lei diceva che avete comunque delle richieste continue anche da situazioni, da nuclei familiari, immagino ci sia una collaborazione con i servizi sociali. Assolutamente sì, i servizi sociali e non solo, parliamo anche con la Caritas che ci dà una mano su questo, riusciamo a, diciamo così, non dico eliminare chi non ha dei problemi, ma cerchiamo di dare a chi ha più problemi, ecco questo è il nostro intento. Allora io la ringrazio Presidente ovviamente per essere stato con noi, ci aspettiamo comunque ancora sorprese perché sappiamo che ce ne sono sempre tante in riservo, anche perché il prossimo anno con il trentennale sarà un appuntamento sicuramente importante da celebrare, sperando che la pandemia ci permetta di vivere questi momenti. Speriamo bene perché quest'anno tra l'altro con i vent'anni l'idea era quella di andare a New York per la terza volta, ma ci ha bloccato un po' tutto e quindi rimanderemo, potrebbe essere il prossimo anno. Ecco, grazie allora ancora al Presidente Sommavilla per essere stato con noi, ovviamente il saluto a tutti i componenti, tutti i rappresentanti che lei appunto oggi così ha ricordato e rappresentato con la sua figura. Grazie ancora Sommavilla. Grazie a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti.